Giulia Roberts, il suo segreto per avere un sorriso da vera star La prima cosa che arriva di Giulia Roberts è il suo sorriso perfetto, denti bianchi, labbra morbide e una smorfia leggera, mai sguaiata Molte si chiedono da anni quale sia il suo segreto, d'altronde non è facile sfoggiare in ogni occasione un sorriso da star invidiato anche dalle sue colleghe attrici In realtà, lei stessa ha dichiarato che avere un sorriso come il suo non sia poi così difficile, basta seguire alcuni semplici consigli che lei ha ereditato dal nonno, fin da quando era bambina Un sorriso unico, ecco tutti i segreti Basta un solo ingrediente per sfoggiare un sorriso smagliante come quello di Giulia Roberts, il bicarbonato L'attrice ha rivelato infatti che questo rimedio l'ha appreso da suo nonno quando era bambina, che era solito mettere un po' di bicarbonato sul suo spazzolino Ogni giorno la star si lava i denti in questo modo, assicurandosi un bianco luminoso e una dentatura in perfetta salute In tutta la sua vita ha avuto solo una carie, pur non seguendo propriamente una beauty routine Giulia Roberts si definisce troppo impegnata per trascorrere il suo tempo in cure di bellezza quotidiana e questo le fa decisamente onore, arrivare quasi a 50 anni come una delle donne più belle del mondo, senza avere una beauty routine, non è una cosa da tutti I prodotti che non possono mai mancare sono una crema idratante e un burro cacao, per il resto il suo rimedio segreto sono grandi occhiali da sole coprenti Del resto quando hai tre figli, devi fare i conti con i tempi da mamma, più che da star Niente ritocchi di chirurgia, niente botox e niente creme iper specializzate, l'unico make-up che utilizza la star è un po' di mascara, poi ha il suo sorriso smagliante e fare tutto il resto Giulia Roberts, una carriera sempre al top Il film che ha cambiato la sua vita è stato Pretty Woman, dopo quello la sua carriera è letteralmente esplosa In realtà aveva già recitato in un film di successo nel 1989, In fiori d'acciaio, con cui si era giudicata un Golden Globe come migliore attrice non protagonista e una candidatura all'Oscar Dopo il successo con la commedia che l'ha portata alle stelle, la Roberts ha conquistato nuovamente il pubblico interpretando Erin Brockovich, ruolo che le procurò un Oscar, un Golden Globe, un premio BAFTA e uno Screen Actors Da allora iniziò una lunga serie di film che sono diventati pietre miliari della storia del cinema internazionale È stata una delle attrici più pagate al mondo, ma quando ripensa alla sua carriera, Julia Roberts è molto autocritica Quando era giovane e agli esordi, si definiva una mocciosa egoista che pensava solo a se stessa e a recitare nei film Oggi invece la sua vita è completamente cambiata, così come anche il suo carattere Dopo il suo matrimonio e dopo essere diventata madre per ben tre volte, la Roberts ha iniziato a dare molta più importanza alle cose importanti della vita, tralasciando come ha già affermato in precedenza, anche una sua personale beauty routine Per lei i figli e la famiglia sono tutta la sua vita, confermando ancora una volta la sua attitudine da donna di successo Per lei i figli e la famiglia sono tutta la sua contietà di tutta la sua carriera, aveva un bel marco in seguito Grazie a tutti.